Stefano Amadio, non al top della condizione, sei partito dalla panchina, sei entrato, hai fatto una grande partita di vero sacrificio e poi questo gol che va a suggellare una prestazione praticamente perfetta. Ma sì, ma diciamo che sto contento non per me ma per la squadra, perché venivamo da un paio di partite difficili, non avevamo reso come sappiamo. Oggi penso che abbiamo fatto una grande partita e credo che la vittoria sarà meritata per quello che abbiamo prodotto, perché pur al primo tempo secondo me meritavamo di vincere, quindi siamo contenti e andiamo avanti così. Forse vi ha bloccato un attimo quel gol arrivato dopo quattro minuti, però poi la squadra ha saputo reagire. Sì, diciamo che viste le prime due partite era un gol che ci poteva compromettere la partita anche a livello mentale, invece penso che abbiamo reagito dalla grande squadra, abbiamo continuato a giocare, abbiamo creato tantissimo e ti ripeto la vittoria è strameritata. Ti sei sacrificato molto, ti abbiamo visto attivo anche in fase di difesa e poi è arrivato questo gol veramente bellissimo. Sì, diciamo che per giocare a calcio bisogna fare tutte e due le fasi, diciamo che soprattutto nelle prime due partite avevamo difettato un po' soprattutto anche nella cattiveria, nella fase di non possesso. Credo che invece oggi abbiamo fatto una grande partita, il gol sono contento, te l'ho detto, a livello personale ma soprattutto per la squadra.